Non ce la faccio più e poi mi sono ricordata di avere nel portafoglio una coppia di Ice Wave. Ho messo gli Ice Wave sotto i piedi, andare al ristorante, divertirmi, sono andata al mare, ho fatto un sacco di cose che erano 15 anni che io non facevo più. Non dico più, no, 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 adesso sì, 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 ma se ti qualcuno mi dico, certo. Sono Monica, sono italiana e da 17 anni vivo in Olanda dove lavoro all'Agenzia Spaziale come assistente. E volevo trovare una soluzione per la fibromialgia per la quale sono stata diagnosticata 15 anni fa e volevo cercare il modo di trogliere le medicine, cosa che avevo già fatto perché per 12 anni ho preso antidepressivo per la fibromialgia, metadone e altra serie di medicinali. E poi nel 2020 ho deciso di smettere tutto, però continuavo a prendere il parassetamol 4 grammi al giorno. La fibromialgia è una malattia cronica e praticamente il sistema centrale nervoso che va in tilt, quindi manda 24 ore su 24 messaggi di dolore anche dove il dolore non esiste. E quindi all'inizio è stato terribile e per 11 mesi ho dovuto prendere la morfina che è stato il periodo migliore della mia vita perché appunto il male non lo senti più. Praticamente una giornata bella con la fibromialgia è come quando una persona normale ha la febbre e quindi si sente tutto rotto. In più ci sono queste crisi dove il dolore si accutilla parecchio. Io per 15 anni non ho più abbracciato la gente perché l'abbraccio mi recava dolore in tutto il corpo. Danno anche questi antidepressivi perché è questa fibro fog che deve essere tolto da un medicinale perché è questa nebbia nel cervello che peggiora il male. Timore no perché visto che non hanno prodotti chimici ero serena. Poi mio nipote me li ha fatti provare. Sì ho provato sempre con tutte le medicine che prendevo ho provato anche con l'agocuntura che è stato un disastro perché uscivo da quelle sedute ed ero distrutta. L'unica cosa che mi dava beneficio è queste vasche dove c'è l'acqua molto salata come andare al mar morto che praticamente è come essere in assenza di gravità. Quindi non avendo il peso del corpo lì stavo bene. Però stai bene nel periodo in cui sei lì. Un po' di benefici dopo ce li hai però non è risolutivo. I massaggi non potevo farli perché non sopporto il contatto. Ad esempio dopo la pandemia, da dove ho iniziato a lavorare da casa e poi ho dovuto riprendere, andare in ufficio, ho dovuto riabituare il mio corpo al peso dei vestiti perché stando in casa avevo tutti i vestiti molto larghi. ritornando a lavorare ho dovuto di nuovo vestirmi da pubblico e il mio corpo non sopportava il peso dei vestiti. Per cui all'inizio, da quando ho la fibromialgia, io lavoravo due giorni in ufficio, un giorno a casa per riprendermi e due giorni in ufficio. Dopo la pandemia è stato esattamente il contrario. Potevo solo permettermi di andare un giorno a lavorare perché il peso dei vestiti, lo stress della gente, lo stress della macchina mi causava poi i dolori che mi duravano una settimana, due settimane. Io fortunatamente poi ho cambiato a una macchina automatica, perché con il cambio automatico, perché con il cambio manuale finivo tutti i giorni tornando da casa con i crampi alla gamba sinistra e la mano destra, quindi dovevo poi cambiare così e allora con la macchina automatica ho migliorato molto. Ma questi dolori erano terribili, sono dolori strazianti e influiscono poi su tutta la tua vita, perché anche uscire con gli amici diventa un peso. Il beneficio di stare in compagnia non era così grande da sollevare dal dolore. Faccio un esempio, ero andata finalmente ad una festa a casa di amici, io ero seduta sul divano e tutti gli altri hanno iniziato a ballare, la vibrazione del parquet mi ha fatto così male che sono andata a casa immediatamente piangendo dal dolore, perché già solo le vibrazioni avevano scombinato tutto il ciclo del dolore. E quindi arrivi a un certo punto in cui non hai più voglia di uscire perché è tutto molto stancante. Ti stanchi molto in fretta e in più hai questo dolore. E allora ti tagli un po' dalla vita, ti tagli dalla vita sociale. Perché la maggior parte, quando hai queste crisi, sono così forti che hai difficoltà a respirare. Io adesso me ne accorgo quando devo distrarmi o fare qualcosa perché inizio ad avere il fiato corto, perché l'inspirazione lunga crea dolore. E allora il cervello automaticamente respira sempre più corto appunto per non allargare neanche la cassa toracica. Invece adesso, quando me ne accorgo, inizio con una lenta e profonda ispirazione e riesco di nuovo a recuperare. Un anno fa ho iniziato con X39 per un mese e sinceramente non avevo notato nulla. Poi una sera finalmente con le mie migliori amiche abbiamo deciso, nonostante non fossi in forma smegliante, di andare a casa di una delle tre e a un certo punto mi è partita una di queste crisi forti e ho detto portatemi a casa perché non ce la faccio più. E poi mi sono ricordata di avere nel portafoglio una coppia di Ice Wave. Messo gli Ice Wave sotto i piedi, sono rimasta con le mie amiche per tutta la serata. E quello, l'Ice Wave è stato quello che mi ha fatto capire che anche gli altri funzionavano perché dal 28 dicembre 2022 io non prendo più antidolorifici. E con la scoperta dell'Ice Wave mi sono poi accorta che il 39 effettivamente mi stava aiutando in piccoli cambiamenti. che non avevo più mal di testa, che avevo sempre mal di testa tutti i giorni e migliorato tutto, anche perché ad esempio adesso l'Ice Wave lo uso proprio quando non ce la faccio più. Però appunto dal 28 dicembre 2022 usando 39, ex 39 di giorno e ion di notte, io non ho più preso antidolorifici. Ma la mia vita è totalmente cambiata perché quest'estate ho finalmente fatto un'estate, è stata l'estate mia più bella nonostante abbia fatto niente di particolare, ma ero in grado di poter uscire tutte le sere. Andare al ristorante, divertirmi, sono andata al mare, ho fatto un sacco di cose che erano 15 anni che io non facevo più. E finalmente posso abbracciare chi voglio e posso essere abbracciata da chi voglio, senza doverne poi subire le conseguenze. E soprattutto ho notato anche l'altra differenza in questi abbracci, questa vitalità. Uno dei miei nipoti ha avuto una nipotina e io fino a quest'estate, quindi quando lei ha compiuto due anni, non l'avevo mai né presa in braccio né coccolata più di tanto perché avevo il terrore che lei si muovesse in qualche modo strano che mi potesse far male. E finalmente adesso posso abbracciarla, posso prenderla in braccio e giocare con lei. Vi assicuro che la fibromialgia, almeno su me hanno funzionato molto perché, ripeto, passare da 4 grammi di parassetamol e ogni due settimane la codeina a niente, a nulla, è un grande cambiamento. Ho più vitalità, ho più… mi è ritornata la voglia di vivere, di uscire con le amiche, di godarmi di più finalmente la vita. Non dico più no, 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 a tutto. Adesso sì, 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 basta che qualcuno mi inviti, certo. Però bisogna fare attenzione perché effettivamente non è che dall'oggi al domani, Ale, sei guarito, non hai più problemi. È proprio un cambiamento, ascoltandoti ti accorgi appunto, non avevo più mal di testa, i dolori sono diminuiti, le crisi le ho lo stesso e le risolvo con l'ice wave, poi altre cose. Però è migliorato, è migliorato in tutto. Praticamente stavo bene una settimana, crisi, tre settimane malissimo. Adesso la crisi, se metto gli ice wave, il giorno dopo va bene, va decisamente meglio. E adesso, anche se non metto, mi durano molto poco, molto poco. E me ne vengono molte meno. Prima era veramente, praticamente una settimana al mese, in cui era come solo se avessi la febbre alta, e le altre tre settimane di agonia. Ho preso per un mese di seguito, oltre a X39 e Ion, glutatione e carnosine, e anche lì, botta di vita, ho iniziato a fare di nuovo ginnastica, che io ero una super sportiva, ma poi 15 anni fa ho smesso tutto. Invece, quel mese lì, il mese in cui ho usato entrambi i cerotti in più, facevo ginnastica tutti i giorni, senza stare male. Stavo peggio quando... Sto peggio se non la faccio, tipo il giorno in cui non la facevo, poi mi accorgevo che non stavo bene. Ma durante la ginnastica, tutto è pieno di vita, riuscivo a fare... Sono passata da 5 ripetizioni a 20 ripetizioni di ogni esercizio, restando nei 25 minuti. Quindi con un aumento molto graduale per abituare di nuovo il corpo a muoversi, e quindi lo sport, che ti lascia serotonina, che la fibromialgia non produce, per cui è uno dei motivi per i quali devi prendere gli antidepressivi. Quel mese lì ho fatto anche ginnastica. Penso che non abbandonerò mai X39 e Ion, perché è vero che hanno un costo, ma spendevo molto di più in medicine, che mi rovinavano l'interno, e sto bene, sto bene. E quindi è veramente... A lungo andare è una spesa che diventa erisoria, perché hai talmente tanti benefici rispetto al costo, e quindi penso che X39 e Ion mi accompagneranno per sempre. E poi penso comunque anche di continuare ogni tanto con il mese di glutatione e carnosine insieme, e vedere se ne inventate di altri tipi, io li provo. In speciali ringraziamenti al mio Francesco, che dopo anni e anni e anni, poverino, mi ha proposto di tutte e di ogni, si è dato un sacco da fare per cercare di aiutarmi con questi dolori terribili. Sono un po' e l'ero una molto restia, qualsiasi cosa, ma i cerotti sono stati veramente, hanno svolto nella mia vita, sono finalmente ritornata, mi sento di nuovo a me stessa, cosa che la fibromialgia ti toglie molto. Un'altra delle cose brutte della fibromialgia è che tu non sei più padrona del tuo corpo. e se eres una molto attiva, sportiva e scovato di qua, ti trovi di colpo una persona che non sei tu e nella quale non ti riconosci. Ed è un senso di colpa che uno si porta dietro. ti senti in colpa per essere malata perché non so come spiegarlo bene, però è una bruttissima sensazione, perché gli altri, chi non ha la fibromialgia, la fibromialgia per quanto ti dica ti capisco non lo può capire. Avere male 24 ore al giorno, sette giorni su sette è debilitante. Ma è soprattutto questo, nella testa, che tu non ti senti più te stessa e ti senti in colpa e ti vergogni nei confronti degli altri che ti hanno conosciuto in un modo. facendo delle sedute con neanche uno psicologo, però questi che ti aiutano con la respirazione così, era venuto proprio fuori quello che io mi sentivo una persona inutile ormai perché non ero più capace, non riuscivo più a fare le cose che facevo prima e ti senti sempre come se tu deludessi tutti, soprattutto te stessa, ma è più la delusione nei confronti degli altri. Ti chiedono, vieni a fare una passeggiata e tu devi dire no perché hai male dappertutto.